Oggi ti presentiamo la corda Tendon Master Pro 9.2 mm. La calza della Master Pro è dotata di tecnologia SBS che ne facilita la manipolazione. Grazie a questa tecnologia la calza risulta molto compatta, liscia e resistente all'abrasione. Inoltre la speciale tessitura della calza evita che microparticelle abrasive penetrino all'interno delle fibre della corda aumentandone di conseguenza la durata nel tempo. Tendon ha migliorato la maneggevolezza della corda che scorre rapida all'interno del dispositivo di assicurazione e rimane fluida anche dopo un prolungato utilizzo. La sua scorrevolezza è particolarmente apprezzata dagli scalatori esperti ma potrebbe sorprendere i novizi. Per questo raccomandiamo di utilizzarla con estrema attenzione. È studiata per resistere alla stessa quantità di cadute di una corda 9.9. Perfetta per seguirti sui tuoi progetti Red Point dove la caduta fa parte sia del divertimento che della soddisfazione. Un connubio tra forza, resistenza e leggerezza. Acquistala oggi, è tempo di andare in falesia.